Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. In apertura parliamo del nuovo ospedale di Padova. Il Tar del Veneto ha respinto la richiesta risarcitoria di finanza e progetti, a dichiararlo Massimo Bitonci, sindaco della città di Padova. La scelta del Comune di mutare l'area su cui insediare il nuovo ospedale è stata legittima. Al tempo del deposito del ricorso, come peraltro evidenziano i giudici regionali, non era stata presentata un'adeguata istruttoria sul cambio di destinazione. Struttoria che tuttavia è stata condotta successivamente e ha approvato che l'area di Padova-Ovest è inadatta per una serie di motivazioni. In primis rischio idrogeologico e imprevedibilità di costi e procedimenti ablativi. Ora, finalmente, dice il sindaco Padovano, potremo discutere insieme con tutti gli enti coinvolti e dare il via a un progetto condiviso per la realizzazione di un nuovo plesso ospedaliero in un'area diversa. Dalla zona di Treviso è una tragedia avvenuta ieri sera. È salito su un traliccio dell'alta tensione, nonostante il divieto e probabilmente la consapevolezza della pericolosità. Al momento non c'è nemmeno un perché. Un trentenne si è arrampicato su un pilone dell'Enel. L'uomo è precipitato al suolo, colpito da 130 mila volt. Si trova in questo momento all'ospedale in gravissime condizioni. Non è chiaro al momento, appunto, come vi abbiamo detto in apertura, del perché di un gesto così folle che sembra avere anche dei testimoni. Sarebbero stati presenti alcuni suoi amici. Straziante il dolore della famiglia Mauro Antonio, che non potrà più riavere tra le braccia Domenico e doloroso non riuscire a trovare un perché alla tragedia avvenuta a Milano, dove gli studenti del liceo Nievo di Padova erano in gita scolastica. Sentite le ultime novità emerse oggi dalle indagini. Le indagini degli investigatori in merito alla morte di Domenico e Mauro Antonio stanno proseguendo, valutando ogni dettaglio. La tragedia ancora resta senza un perché, quel perché che le indagini vogliono far emergere e trovare la verità. Sembra, da varie indiscrezioni, che ci siano degli elementi utili raccolti tra le testimonianze rilasciate dagli studenti del liceo Nievo, che la notte della tragedia erano in hotel con Domenico. Nelle ultime ore sono stati sequestrati i cellulari di alcuni ragazzi per visionare chat ed sms scambiati quella notte. Intanto resta il dolore di una famiglia che non potrà più riabbracciare quel ragazzo e che si affida al lavoro della giustizia con la massima fiducia. E altri studenti saranno ascoltati in questura perché risulta tuttora impossibile che nessuno si sia accorto di nulla o non abbia sentito nulla. Dunque le audizioni e le testimonianze verranno raccolte anche nei prossimi giorni. Da domani, il 26 maggio, in Italia scatta il divorzio breve, la novità che permette alle coppie consensuali di rompere il matrimonio in tempi decisamente ridotti rispetto al passato. Sembra che la nuova normativa sia stata gradita e siano già migliaia e migliaia i procedimenti che per alcuni potrebbero intasare i tribunali. Giugno si avvicina e con quella data anche l'arrivo del pagamento imutasi in scadenza il 16 del mese. Ricordiamo che quello di giugno è la metà del tributo mentre il saldo dovrà avvenire il 16 del mese di dicembre. Fortunatamente un passante transitato davanti ad un'abitazione ha visto le fiamme uscire dal tetto. L'uomo ha chiamato il 115. È accaduto a Stra, in provincia di Venezia. Grazie alla tempestività dei vigili del fuoco e alla testimonianza del passante, una famiglia è stata salvata. È accaduto di notte e nessuno fortunatamente è rimasto ferito ma i danni sarebbero ingenti. Domenica sera di tensione a Mestre con l'arrivo di Matteo Salvini atteso dai centri sociali. Il gruppo di 150 persone ha forzato il cordone della polizia e vi è stato uno scontro. Guardate le immagini. Domenica sera di tensione a Mestre, l'arrivo di Matteo Salvini è raccolto un gruppo di manifestanti dei centri sociali veneziani che hanno scatenato il caos. Presenti sul posto le forze dell'ordine per garantire la sicurezza del territorio e l'incolumità del leader politico. Improvvisamente l'atteggiamento dei contestatori si è fatto pesante. Volevano raggiungere Salvini. A quel punto i poliziotti hanno creato uno scudo, un cordone che gli attivisti hanno forzato. È stata necessaria una carica di alleggerimento da parte della polizia. I manifestanti, circa 150, hanno lanciato fumogeni e pare due bombe carta. Qualcuno è rimasto ferito in maniera leggera, ma la situazione, che era diventata incandescente e aveva spaventato anche molti cittadini, fortunatamente si è disciolta. Dalla provincia di Padova a Monseli c'è l'ite degenerata tra due cognati nordafricani. Uno dei due, durante una discussione, ha colpito il suo avversario con una bottiglia rotta, procurandogli delle gravi lesioni al volto e al collo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118. Entrambi sono stati portati all'ospedale. Il più grave è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico. Il ferito più grave di nazionalità tunisina ed era sottoposto a obbligo di dimora. L'altro, di nazionalità marocchina, è stato arrestato per tentato omicidio. Sono sconosciuti al momento i motivi della lite. Accoltellano un venezuelano. Due uomini sono stati arrestati a Mestre. Un'operazione un po' complicata, quella dell'arresto, perché uno degli aggressori portato all'ospedale si era dato alla fuga al momento delle dimissioni. Ma sentite come sono andate le cose. Ve lo raccontiamo nel servizio. Arresto movimentato di due tunisini che ieri hanno accoltellato a Mestre un cittadino venezuelano, loro vicino di casa. Verso le 12 la prima aggressione all'uomo con calci, botte e spintoni. Un'ora dopo, mentre l'aggredito stava andando a formalizzare la denuncia, è stato nuovamente picchiato, ma questa volta è spuntato un coltello che lo ha colpito ad un braccio e a un gluteo. I due aggressori erano aiutati da altri due soggetti. In breve sul posto sono giunti sia gli uomini della Questura che i carabinieri. Gli aggressori sono stati presi e uno, ferito, è stato portato al pronto soccorso. Al momento delle dimissioni, però, l'uomo è riuscito a fuggire, ha assalito gli agenti e sebbene ha manettato, è scappato. Allertata la sala operativa della Questura, nella zona sono giunte altre volanti che in breve tempo hanno rintracciato il fuggitivo. Incidente in A4 tra i casali di Vicenza-Est e Vicenza-Ovest. Nel tratto con direzione Milano si sono scontrati tre veicoli. L'incidente è avvenuto sotto la galleria. Uno dei conducenti è stato trasportato all'ospedale. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per permettere i soccorsi e i rilievi. E sempre nello stesso tratto autostradale tra Vicenza-Est e Vicenza-Ovest è avvenuto un altro incidente stradale con lo schianto di un mezzo pesante contro un altro tir che trasportava una sostanza pericolosa e infiammabile. Tamponamento tra mezzi pesanti lungo l'autostrada 4 tra Vicenza-Est e Vicenza-Ovest. Un autista forlivese di un'auto articolato cisterna che trasportava oltre 30.000 litri di alcol etilico ha tamponato un camion biellorusso. I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti immediatamente mettendo in sicurezza l'area dell'incidente per poi procedere all'assistenza per il recupero e traino della cisterna con una nuova motrice. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada. Un altro scontro tra mezzi pesanti e ancora liquido pericoloso sull'asfalto. I vigili del fuoco sono stati impegnati in provincia di Verona. Un camion cisterna si è rovesciato e tutto il gasolio che stava trasportando è finito sull'asfalto. Sentite. Il rimorchio di un autotreno cisterna che trasportava carburante è finito fuoristrada rovesciandosi mentre la motrice è rimasta in strada. Il rimorchio finito fuoristrada si è squarciato con il riversamento di tutto il gasolio contenuto nella cisterna. L'incidente è avvenuto in provincia di Verona tra Opeano e Bovolone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi tra cui un autogru e 12 operatori. Gli uomini hanno messo in sicurezza tutta la zona per poi iniziare le fasi di recupero del carburante finito nel fossato adiacente la carreggiata. Sul posto oltre i vigili del fuoco sicurezza ambientale, carabinieri e polizia locale. Uno sguardo alla situazione meteo prevista al transito di un sistema frontale in arrivo da nord porta a una fase di tempo instabile sulla regione a partire dalla serata di oggi fino alle prime ore del mattino di mercoledì. In seguito l'espansione verso il Mediterraneo del campo di alta pressione presente sull'Atlantico favorirà tempo più stabile e soleggiato ma tratti ancora variabili, specie sulle zone di montagna. Dunque è in arrivo un peggioramento del clima con precipitazioni che dovrebbero essere presenti in maniera alternativa per tutta la giornata di domani. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi vi auguro una buona serata.